Chiede ora di intervenire Francesco Cariello, prego, nella facoltà. Grazie, Presidente. Gentili colleghi, siamo alla terza puntata di un decreto che nasce per risolvere la grave situazione di bilancio del Comune di Roma, da cui appunto il nomignolo Salva Roma. A dicembre la prima versione del decreto fu ritirata grazie anche alla nostra forte opposizione e con il monito del Presidente della Repubblica per le numerose norme estranea alla materia principale. A febbraio ne è nata una seconda diversione che viene lasciata decadere dal Governo Renzi perché non convince appunto il nascente Governo. Ed eccoci qua alla terza versione in cui viene prospettato il cambiamento, un cambiamento che è un nulla di fatto. Si passa dal Salva Roma al Salva Tutti. Le disposizioni di questo decreto, infatti, reiterano il precedente e confermano ancora l'eterogenità. Si parte dalla tassazione locale, nei primi articoli, per poi passare al trasporto ferroviario nelle regioni a statuto speciale, al superamento delle conseguenze del sisma in Abruzzo, la gestione commissariale di Roma, per finire poi alla prosecuzione dei servizi in ambito scolastico. Ma questo è anche il primo decreto del nuovo Governo, dove il Premier si gioca alla credibilità. Il Presidente del Consiglio, da un lato, va in TV a promettere un abbassamento delle tasse, ma la prima cosa che fa è emanare un decreto che le aumenta. Infatti, dopo soli tre mesi dalla legge di stabilità, che aveva istituito le nuove sigle Tasi e Tari, in questo decreto viene già rivisto l'impianto della Tasi. L'articolo 1, di fatto, prevede un aumento della Tasi, a discrezione dei comuni, appunto. Proprio di fronte a ciò, siamo al solito giochetto. Il Governo, con una mano dice di dare, e intanto, con l'altra, arraffa dalle tasche degli italiani, per tramite degli enti locali. Il Premier Renzi ha promesso un beneficio IRPEF di 80 euro mensili in busta paga, ad appena 10 milioni di lavoratori dipendenti, che valuteremo quando sarà depositato in Parlamento, perché al momento non si conoscono i dettagli. Intanto, però, con questo decreto, introduce un'aliquota supplementare della Tasi su prima e seconda casa. L'aumento delle aliquote è pari allo 0,8 per mille e riguarderà oltre l'80% degli italiani che sono proprietari di un immobile. I pensionati vedranno aumentare le tasse sulla prima casa con questa Tasi, laddove con l'Imu erano protetti dalle detrazioni. Per loro non c'è alcun beneficio IRPEF, da un Premier che a parole dice di voler tagliare le pensioni d'oro, mentre poi il suo partito in Parlamento vota in modo contrario. In attesa di vedere come il Governo tradurrà in realtà le sue promesse elettorali, i cittadini si preparino ad una mazzata da circa 1,5 miliardi sul bene più prezioso che hanno, ovvero la casa. Una mazzata che noi del Movimento 5 Stelle avevamo proposto di cancellare, tassando i signori del gioco d'azzardo che continuano ad essere protetti da Renzi come in precedenza dal Governo Letta. La notizia la diamo a tutti gli italiani che ci seguono. Anche questo Governo non può fare a meno di aumentare le tasse. E, peraltro, è reo confesso. Infatti il dato è confermato nel documento di Economia e Finanza, in cui è chiaramente scritto che la pressione fiscale aumenterà quest'anno al 44% e nel 2015, mentre tornerà ai livelli attuali solo nel 2016 e nel 2017. Insomma, è la montagna della propaganda che non riesce nemmeno a partorire un topolino di fatti concreti. Il Governo, oltre a perdere la propria credibilità, tende anche a screditare il sistema che governa la contabilità del nostro Paese. Con l'articolo 3, appunto, si tocca l'apice, togliendo la responsabilità ai cattivi amministratori, andando contro il principio «chi dissesta paga», ma muovendosi proprio in direzione diametralmente opposta. In particolare, l'articolo 3 rende nulle le procedure di controllo della Corte dei Conti, mentre l'articolo 11 agisce sulla relazione di fine mandato dei sindaci. La tendenza è sempre quella di derogare o rendere nulle le norme vigenti in controlli contabili, con l'adozione di specifiche disposizioni ad hoc per favorire determinati enti locali. La Corte dei Conti ha perfettamente chiarito in audizione che l'articolo 3 è stato pensato per il Comune di Napoli. Come può essere credibile un sistema di contabilità che permette tutto ciò, incoraggiando appunto le irresponsabilità? Dal punto di vista legislativo si riconosce il dissesto, ma si bloccano poi di fatto i poteri della Corte dei Conti, tali da rendere inapplicabili le sue stesse disposizioni. Cos'ha questo Governo contro la Corte dei Conti? Forse non piace, forse appare come un intralcio al controllo democratico sulle malefatte della politica clientelare. Forse dà fastidio un organismo di rilievo costituzionale fondamentale. Questo atteggiamento si riflette anche sul nascente ufficio parlamentare di bilancio, il cosiddetto Fiscal Council, ovvero la longa manus dell'austerity europea sul Parlamento. Noi crediamo infatti che questo Governo, in perfetta continuità con i precedenti Governi, stia lavorando per esautorare la Corte dei Conti e preferisce affidare, per quanto riguarda il controllo sui provvedimenti finanziari, ad un organismo figlio del Fiscal Compact, che ci toglie sovranità e che forse nascerà nel nome dell'ennesimo accordo incestuoso tra le parti. Noi ancora confidiamo e vigileremo l'indipendenza e autorevolezza che i nominati dall'ufficio parlamentare di bilancio dovrebbero garantire. Voglio ricordare anche le ultimissime modifiche effettuate su questo decreto, all'articolo 4, con le quali non si sono tuttavia risolte le criticità riscontrate relative alla disapplicazione della clausola di nullità nei confronti dei fondi costituiti dai Comuni per il recupero delle somme che, appunto, Comuni e Regioni hanno destinato alla contrattazione integrativa con i propri dipendenti. Una vera e propria sanatoria. La razza dell'intervento interpretativo è chiara. Sanare situazioni di violazione dei vincoli di bilancio e sottrarre dall'accertamento contabile e giurisdizionale della Corte dei Conti quegli enti che non hanno rispettato le norme in materia di spese e assunzione di personale dirigente e non dirigente. In pratica, per farlo comprendere ai cittadini, si recuperano le somme erogate nel mancato rispetto dei vincoli finanziari, ma si sana la responsabilità degli amministratori locali che ne hanno determinato gli effetti. Inoltre, la disposizione in esame, come dichiarato dalla Corte dei Conti, rischia di provocare l'arresto e l'improcedibilità dei processi pendenti e delle indagini in corso in materia, appunto, di danno erariale per la fattispecie in questione. Vigileremo sugli effetti anche dell'articolo 5, che apre alla possibilità degli investimenti per i Comuni, ricordando però il rispetto dell'articolo 119 della Costituzione, che dà agli enti la possibilità di assumere nuovi debiti, ma solo nelle forme e modalità previste, e cosa molto importante solo per la finalità degli investimenti e non per risanare debiti precedentemente contratti, cosa che è avvenuta troppo spesso in passato e che ha rilevato anche la Corte dei Conti nell'analizzare questa norma. Interessante e controversa è anche la norma riguardante disposizione in materia di contributi ordinari per gli enti locali, l'articolo 9. Riduzioni del contributo pensate in relazione ai risparmi di spesa precisi, quali le riduzioni del numero dei consiglieri comunali e provinciali, che poi, senza entrare nello specifico, tale norma, oltre ad essere iniqua verso alcuni Comuni, cioè quelli che sono andati alle elezioni, è applicata anche a coloro che non hanno ancora fatto elezioni per ridurre il numero dei parlamentari. Bene, la cosa è interessante, perché nel DDL sulla finta abolizione delle province, la legge addirittura aumenta il numero di consiglieri comunali e degli assessori, ed il tutto a costo zero, a detta del Governo. Quindi lavoreranno in più 31 mila persone, mentre nell'articolo 9 di questo decreto si riducono i trasferimenti ai comuni, facendo leva sulla riduzione del numero dei consiglieri. Un vero e proprio pasticcio. L'intero decreto si muove sempre sulla stessa falsariga vista per gli altri articoli, ad esempio l'articolo 11, che rivede, semplificando, la disciplina che impone l'obbligo per province e comuni di redigere la relazione di fine mandato, bypassando il tavolo tecnico interistituzionale, che avrebbe invece il compito del secondo controllo, quello più tecnico, su aspetti prettamente di bilancio e amministrativi in generale. Nel decreto è prevista anche l'ennesima proroga dei contratti stipulati alle istituzioni scolastiche statali per l'acquisto di servizi di pulizia. Si stanziano altri 20 milioni rispetto a quelli già previsti attraverso l'ennesimo saccheggio del fondo scolastico del miglioramento dell'offerta formativa. Abbiamo ribadito più volte che costa di più appaltare il servizio alle cooperative che assumere il personale inserito in graduatoria. Avete speso più di 74 milioni di euro nel 2010, 27 nel 2012, 61 nel 2013. Questi sono i veri sprechi di soldi pubblici. Peccato però che voi continuate a prorogare l'esternalizzazione dei servizi concedendo appalti al ribasso alle solite cooperative. In pratica ogni articolo sembra studiato ad hoc per alcuni comuni o situazioni particolari, allentando il monitoraggio, che tra l'altro è opposto al resto di quello che ci suggerisce l'Europa, e perde di vista quello che dovrebbe davvero essere l'obiettivo centrale del decreto, ovvero porre rimedi dove in passato si è sbagliato, per poter far ripartire in qualche modo l'Italia e di conseguenza tutti gli italiani, verso una lenta ma progressiva ripresa. E invece il governo Renzi, ennesimo governo non votato dal giudizio popolare, che tante soluzioni e rimedi alternativi aveva auspicato al suo ingresso, non ha fatto che ribadire i soliti giochetti proposti già in passato, sanatorie, anzi oserei dire in maniera ancora peggiore, facendo buon viso a cattivo gioco, mostrandosi un grande oratore dai contenuti politici poveri. Concludo dicendo che questo decreto è il tipico esempio di malgoverno italiano, è approssimativo, mal pianificato, non fa altro che mettere in risalto lo scarso senso di responsabilità che caratterizza la politica e l'incapacità della stessa di amministrare nel pieno rispetto delle regole. Pertanto annuncio il voto contrario del Movimento 5 Stelle.